Perfetto, benvenuti, benvenuti a tutti quelli che stanno guardando la registrazione Vi do un benvenuto questo lunedì, spero che avete iniziato bene la vostra settimana A te che guarderai la registrazione, di cosa si parlerà oggi? Oggi si parlerà, titolo della call sarà Who to hit P150 Spero che il mio inglese l'ho detto bene, l'ho pronunciato bene Come andare veramente nel prossimo ring, nel P150 Ci saranno dei temi importanti, dei temi chiave dove noi abbiamo deciso di prenderli e farli presente Sarà una videochiamata solo per questo tema Non parleremo di trading questa volta, caso eccezionale Ma parleremo veramente come formare di te un leader Oppure come mettere la firma per diventare un leader, ok? Come mettere la firma per iniziare questo cammino da leader Iniziamo subito, cosa magari avevo preparato Che cosa magari serve per un P150, ok? O magari per un for free, ok? È lo stesso passo identico, ok? Perché una cosa dovete fare Prima cosa, che alcuni di voi già l'hanno fatta, se non quasi tutti È fare una lista dei contatti, ok? Fare una lista dei contatti cosa vuol dire? Molti, molti, ok? Non voglio parlarsi di me, parlo su di me stesso, ok? All'inizio il mio applay mi ha detto Eh, devi fare una lista dei contatti Ho detto ok, faccio subito subito Ok, ho preso un voglio, ho scritto 10, 15 nomi su un voglio Ho detto Eh, ho finito Mi chiamo, ho finito Come hai finito? Ho finito Ok, quanti contatti c'hai? Ho detto 180, una cosa del genere, ok? Mi guardo e mi fa Ok, quanti ne hai scritti? Eh, 14, 15 Ok, ma come può essere? Se non hai 180, ok? E lì arriva la parte, ok? Che è da capire, ok? Perché molti in questo punto mi dicono Sì, ma aspetta, ma 180 però che c'entra? Io ho 15, ce ne invito, no? E lì ci sono molte domande che ti devi fare Molte domande che ti devi chiedere Naturalmente puoi elevare la nonna e il nonno, ok? Ho detto in borsa, naturalmente puoi farlo Ok, il genitore, magari qualche zio più grande, ok? Normalmente è tutto fattibile Però non penso che hai su una lista di 180 contatti Oppure di 100 persone, ok? Io prendo il mio caso su 180 contatti Era strano che avevo 170 persone Che erano tutti parenti, zii e nonni Cioè è impossibile, ok? Questo è quello che non capivo, ok? Quindi mi sono fatto la lista a modo mio Con le persone a cui mi immaginavo Queste qui, perfetto Lavorano con me Sono felice e tutto, ok? Quello era però l'errore che possiamo fare E quello lì, perché? Perché se io penso che Vi faccio una domanda a voi, ok? Magari mi potete rispondere in chat Penso la mia risposta già è molto, molto chiara I am È una cosa fantastica Ok? Rispondetevi in chat Fatemi vedere in chat La risposta nella domanda I am è una cosa fantastica Ok, yes, yes Numeri, numeri, numeri Ok Allora, aspettate Se è una cosa fantastica Perché lo devono sapere solo due persone O dieci O quindici Ho sbaglio È normale, no? Come? Nella chat la stai facendo scoppiare I am è una cosa fantastica Mi fai una lista dei contatti Con solamente dodici persone O quindici O venti O anche trenta Su centottanta Ok? Naturalmente Lì per qualsiasi cosa Anche privatamente Ti posso aiutare io Ora arriva il punto Quando si fa una lista dei contatti Si iniziano a scartare delle persone Ok? Non so se ci hai fatto caso Oppure magari non vuoi accettare che lo fai Ma lo stai facendo Ok? Stai scartando delle persone Tipo delle persone dove dici Eh, con lui non voglio avere niente a che fare Boom, prossimo punto Ok, no, lui non ci chiamo Quello, boh, chi l'ha mai visto Oppure, ok? Quello è un punto molto importante Se tu hai avuto la possibilità Anche se non avete confidenza con quella persona Ok? Non è che lui non ha il diritto Di non avere la possibilità Perché se tu vuoi andare nel primo step Che è il P-150 Il P-150 Spero Ok? Sapete i valori che diamo noi Io con tutti gli upline Alessio Non farlo mai per i soldi Ok? Cosa vuol dire? Se tu naturalmente vai a consigliare Anche che non hai confidenza E niente Naturalmente il P-150 Non lo fai solo per i soldi Ma lo fai per un certo tipo di responsabilità Ok? Perché gli farai vedere E lo porterai anche quella persona ai risultati Naturalmente insieme ai tuoi upline Ok? Sono piccoli i primi step Farai tutto con i tuoi upline Ok? Cosa vuol dire? Se tu vai a scrivere una lista dei contatti Li puoi dividere in tre parti Ok? Tre parti che sono A, B e C Ok? Ci sono due sistemi A, B e C Oppure li puoi dividere in due parti Ok? Ma credimi Sarà sempre la stessa cosa Vi faccio ora l'esempio A Chi sono le A? Le A sono le persone proprio che Non solo che li vedi ogni giorno Anche ogni due giorni Ma persone proprio amici Che con cui puoi raccontare qualche Magari qualche segreto Proprio un amico Oppure persone proprio che Lavorate insieme ogni giorno Proprio stretti Scherzate, ridete, piangete Seri, ridete Tutto Quelli sono le A Ok? Contatti A Cosa sono i contatti C? I contatti C sono proprio La persona che magari non zendi da Quattro anni La persona che magari non zendi da un po' di tempo Che però te la ricordi Ok? Avete parlato Proprio la persona distante Ok? Cosa è il contatto B? Naturalmente è una via di mezzo Tra le loro due Tipo un amico di scuola Che vi salutate Ha parlato un po' di calcio Di qualcosa E finite lì Ok? Quello lì è un contatto B Ok? Ci vuol dire scrivere veramente Tutta la lista Se tu hai 100 contatti Io ne accetto A 92 Ok? Gli altri possono essere familiari A 90 Ok? Spero che però non ti senti Parlato personalmente Questa sera Ok? Però questo è il senso Che ti voglio portare Ok? Che è il significato Che voglio portare Questa sera Questo Ok? Cosa vuol dire? Avendo tutta la lista Dei contatti Si dice che Uno su dieci Ok? Uno su dieci È la quota Che la persona Inizierà Questo percorso Questo business con te Cosa vuol dire? Se vuoi fare il P150 Invita 30 persone Su una presentazione Su una launch E poi ci pensano I tuoi upline Ok? Se vuoi fare il P600 Invita nei 120 Ok? Uno su dieci Ok? Vai sempre da questo calcolo Ok? Questo è molto importante Da capire La lista dei contatti È proprio il punto base Dove si va a iniziare Dove inizia tutto Ok? Quella lista Poi la iniziamo a Come dire Iniziamo a lavorare Con quella lista Ok? Naturalmente Chi farai prima? Prima puoi fare Qualche B Naturalmente ci sono Quelle persone A Che nemmeno inizi Già lo sanno Che è tutto normale Contatti il tuo upline Ok? Però inizierai magari Con qualche B Ok? Faremo tipo una launch Ok? Dove magari metti Venti Contatti B Perché? Perché non sono stretti Non sono lontani Ma lì puoi già iniziare A far pratica Con il tutto Ok? Naturalmente la launch La organizzerai Col tuo upline Ok? Oppure meglio dire Il tuo upline La organizzerai con te Ok? Cosa si fa Con questa lista Di contatti La prima cosa Il prossimo punto Che vi spiego È l'invito Ok? Come invitare Le persone O su un follow up Ok? Ci vuol dire Io Tu E la persona Oppure Su una launch Ok? Magari possiamo fare Qualche esempio L'esempio lo faccio Direttamente con Chi se la sente Chi se la sente Andrea Emanuele Passate la mano Chi vuole Ok vai Andrea Ok Ti senti? Ok ti sentiamo Ok Andrea Dovete sapere Che uno Dei miei Contatti Però è brutto Chiamarlo Contatti Perché è proprio Un grande amico Mio Ok? Vi posso dire Che ha fatto Passi da gigante Comunque Andrea Ti sento Facciamo un esempio Dell'invito Ok? Facciamo un esempio Dell'invito Io invito a te Ok? Ok Vai Ok Invito ad Andrea Su Una Lounge Ok? Perché lavoreremo Più con le lounge Va bene? Ok inizio Pronto Andrea Come va? Pronto Ciao Eliseo Dimmi Dimmi tutto Andrea senti qua Come stai? Che mi racconti? A posto? Sì Io sto bene Tutto a posto Tutto nella norma Tu Mi racconti? Perfetto Io sto benissimo Spero che veramente Non ti disturbo Ho veramente Un minuto di tema Proprio devo staccare Fra domani Verso le quindici Cosa fai? Fra io alle quindici Verso le tre Finisco di lavoro Penso ci sarò Verso le quattro Tu Ok Ok No allora Facciamo una cosa Ci devi essere Per le vendi Ok? Per le vendi Lì ci devi essere Ok Ce la dovrei fare Per le otto Ok Perfetto Ok Allora domani alle otto Guarda che Ti chiamo Sto organizzando Una cosa pazzesca Veramente non puoi mancare Domani alle otto Ti mando il link Ok Ci devi essere Devi entrare Devi sentire Quello che c'è Da ascoltare Ok Ma non mi puoi dire niente Su sta cosa Così alle otto Domani Devo staccare subito Ok Devo andare Per questo ti dico Veramente Alle otto Io vado proprio Su fiducia Perché lo sai Di te Mi fido Ok Va bene Ok Va bene Aspetto Un nuovo messaggio Per le otto domani Ok Perfetto Allora Stacco Mi raccomando 5 minuti prima Ti chiamo Va bene Va bene Non ti preoccupare Ok Perfetto Ok Devo andare Ciao 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 Ok Questo era un invito Quello lì Come avete visto Abbiamo fatto Due orari diversi Io ho sbagliato Non ho già fatto caso Ho preso direttamente Un orario presto Per le 15 Ok Quello lì lo possiamo usare Per un follow up Ok Per un follow up Perché se c'è un launch Non vuoi cambiare l'orario Ok Perché l'orario è sempre uno Ok Per la presentazione Ok Magari possiamo fare Un altro invito Ok Faccio un ultimo esempio Vi faccio un esempio Ok Giudicate voi Qual è quello buone Qual è quello Brutto Ok Andrea sei pronto Ok Ok Pronto Pronto Andrea A posto Sì tutto a posto Eliseo Tutto a posto Tu che mi dici Niente a posto A posto Senti una cosa Ho scoperto una cosa Fantastica Ci devi essere Fra domani alle 8 C'è una presentazione Stiamo facendo veramente C'è una cosa fantastica Che sto guardando Ci devi essere Sì per le 8 Ci dovrei essere Ma che cosa Che cos'è questa cosa Cioè Non mi sembra una cosa Tanto fantastica Che cos'è Normalmente Non te lo posso dire Però Credimi Ci devi essere Credimi Si parla di una cosa Fantastica Non so Si parla di trading Ci devi essere Si parla di trading E tutto Ci devi essere Va bene Sì ma Cos'è questo trading Non è che mi sembra Una cosa eccezionale Ok come vedete Già Quello lì è l'invito Più brutto Che potete fare Ok Perché Già avete svelato La sorpresa Non c'era energia Non era una cosa carica E non hai detto Che non hai tempo Ok avete visto Già la persona Fa domande Sì ma che è questo trading Non l'ho mai sentito Di che parliamo Di cosa si tratta Ok ci vuol dire Anche se potrebbe essere Un'opzione Per quella persona Lui non lo sa Che non Non ha visto ancora niente Come in presentazione Quindi già ti dirà No Ma no Non è una cosa per me Lascia perdere Dai poi ci vediamo in giro Ok Ora facciamo l'ultimo esempio Buono E poi passiamo ai prossimi punti Ok Pronto Andrea Andrea Eh ciao Alessio dimmi Disturbo No 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 Vai tranquillo Vai tranquillo Ok Andrea scelta una cosa Perché devo staccare subito Che sono in giro Sono in macchina Andrea ho pensato subito C'è veramente Mi sei venuto in cuore Ti dovevo chiamare Domani verso le 9 di sera Ti devo fare una chiamata Ci devi essere Perché ho bisogno Di un consiglio tuo Eh sì va bene L'orario Io finisco alle 6 Ce la dovrei fare Ok Ok Però mi hai detto sì Cioè Ci vuol dire Tu lo sai Mi fido Perché mi devi dare Un consiglio Proprio voglio sentire La tua opinione Su una cosa che sto facendo Va bene Va bene Non ti preoccupare Mi scrivi 5 minuti prima E ci sarò Ok Perfetto Allora fra A domani Alle 21 Mi raccomando Ti chiamo 5 minuti prima Ok Ok Va bene E poi staccate subito Ok Come avete visto Ho preso 3 conferme Alla fine Che mi ha detto 3 volte di sì Perché vai Voi conoscete Il sistema Della mente concia Ok Il subconcio Ok Avete Quasi programmato Lui stesso Ha detto 3 volte Sì Ok Questo è dove dovete arrivare Ok Non Certo Naturalmente Non questo Dove dovete arrivare Però questo è quello Che potete fare Nel miglior Nel miglior caso Ok Ci vuol dire L'invito corto Più breve possibile Magari di non perdere Signacchiera Come va Oppure Ciao Come ho detto io Ciao Andrea Ti disturbo Hai due minuti A posto Lui Sì Com'è Dimmi tu Quando tu poi dici Non ho tempo Se poi Poi gli vai dire Niente Da me tutto Poi Allora C'hai tempo Capito Ok Quindi subito Appunto Che domani L'orario Mai dire Senti Sto Facendo una cosa E alle 21 Ok Che cosa Ok Se tu dici Prima l'orario E poi Fai Prima chiaro L'orario Che no Le 3 non vuoi Allora alle 21 Oppure Fai l'orario Lo scegli sempre Tu Naturalmente Come il calendario Del tuo Appline È libero Ok Chiedi al tuo Appline Il calendario Lo scegli sempre Tu Devi guidare la chiamata Scelta dell'orario Una volta che ti ho detto Sì per quell'orario Dopo che ti fai le domande Di cosa si tratta Tu puoi dire anche Quando ti chiedono Eh ma che cos'è Tu puoi dire una cosa tipo Senti Te lo potrei spiegare Anche ora A parte che non ho tempo Ma anche se vorrei spiegartelo È come se Ti dovrei spiegare A telefono Come Sala Coca Cola Che non te lo posso mai spiegare Come Sala Coca Cola Ok Devi vedere tu Domani Al 21 Che è l'orario Che avete fatto Ok Quello Lo potete fare Quando lui Giai detto di sì All'orario Ok Poi alla fine Prima di staccare Dopo che lui Magari fa due domande Dove vuoi È una sorpresa Ok Lì Vi prendete Tre con vermo Ok Allora è sicuro Cinque minuti Prima ti chiamo Sì Oh Viga Mi fido di te Ok E là avete Le conferme Ok Poi potete staccare Ok L'indomani Oppure fra dei giorni Dopo che c'è la presentazione Mezz'ora prima O un'ora prima Scrivi un messaggio E cinque minuti prima Avanti il link Della presentazione Ok Questo Sugli inviti Ok Questo è uno Della parte Per il P150 Anzi Vi svelo un piccolo trucco Fino al P600 Devi sapere veramente Questo skill Ok L'invito È una delle cose più importanti Non perdersi in chiacchiere Ok Questo è molto importante È corto Breve Hai da fare Orario lo scegli tu Con verme Boom Ok Qui hai fatto il tuo lavoro Ok L'invito Se lo fai così Hai veramente Fatto il tuo lavoro Alla grande Ok Questo è uno dei punti Che vi posso dare Ok Quindi fare la La lista dei contatti E così procedere Con gli inviti Ok Naturalmente L'organizzazione Dell'orario Sono a launch Ve la darà Il vostro Upline Ok Se no Se no Se no Se no Vado subito Al prossimo punto Uno dei punti Più importanti È il tema Edifying Ok Non esiste Un edifying Perfetta Ok Perché dico questo Perché l'edifying Deve essere veramente Prima di tutto Non recitato Ok L'edifying Veramente Deve uscire Dall'interno Che cosa Veramente Tu pensi Sull'altra persona Che cosa Un edifying Ti magari Sende la parola Per la prima volta La presentazione Di un'altra persona Del tuo Upline Ok Cosa vuol dire Quando io vado A presentare Ad Non so Prendo Ad Alessio Ok Se io presento Alessio Adesso vi faccio Due tipi di edifying La prima è questa qua Perfetto ragazzi Benvenuti in questa Presentazione Che abbiamo organizzato Ragazzi Grazie che siete tutti qui Questa sera Un grandissimo amico mio Alessio Vi farò vedere Quello che faccio Buona serata E lì si pensa La persona Ok ma C'è chi è questo Ok E lì si pensa Che è bello Che Di che stiamo parlando C'è chi è Ok Non hai dato niente Ok Devi immaginare Che l'edifying Serve per Abbiamo qui due persone E noi siamo in mezzo Ok Questo sono io Qui c'è Il mio Upline E qui c'è la persona Che a cui tengo Che ho invitato Se io Vado a fare la chiamata Devo presentare Noi due siamo collegati Con la persona Che è un amico mio Io e il mio Upline siamo collegati Ma loro due no Ok Io ora devo andare A collegare questi qui Ok Come faccio? Tramite l'edifying Ok Cosa vuol dire? Se io faccio l'edifying Ora magari vi faccio Qualche schizzo Se io faccio L'edifying Gli dico Senti Qui c'è Un amico mio Si chiama Alessio Grandissimo Ridiamo Scherziamo E questo qua Te lo faccio Te lo presento Ok Io ho fatto Così Ok Poi Alessio Mi ha chiamato Alessio Questo qui è Emanuele Emanuele Grandissima persona Andiamo a scuola Insieme Ok E basta Ok Non c'è niente Non c'è qualcosa Quello che dobbiamo fare Invece Che faremo adesso L'edifying È una cosa del genere Presenti Alessio Oppure il tuo Appena che io presento Alessio Alessio lo devo portare qui Boom Quando io però Alessio gli presento Emanuele Lo porto Boom Ok Faccio la presentazione Naturalmente Prima che do la chiamata Veramente Boom Ci deve essere questo Questo che deve capire Ok Veramente questa persona Si sta prendendo tempo per me Ok Dovete veramente far capire Non è una cosa Normale Che questa persona Si prende del tempo per te Ok Come anche se l'hai preso per me Affinché parliamo con te Ok Vi faccio un esempio Non so Vedete tutti La mia lavagna Vedete Forse ora Fra poco Qualche secondo Esatto Ok Qui ci sono io Ok Eliseo Ok Qui ci sono io Qui abbiamo Il mio Appline Ok Magari scrivo Ok Scrivo così Ok Qui abbiamo il mio Appline E qui Abbiamo La persona Che ho invitato Ok Ci vuol dire Il mio Prospero Ok Spero che è scritto Esatto Ok Ok Mi fate vedere In chat Se è chiaro L'esempio Ok Questo è il compito Dell'Edify Va bene Magari Lascio Un poco Aperto Questo è il compito Dell'Edify Di veramente Creare un contatto Dal prospect Al tuo Appline Ok Che capisci veramente Chi tra di loro Chi ha davanti Chi Ok Ci vuol dire Che il tuo Appline Ha davanti Lui E il tuo Amico Ha davanti Il tuo Appline Ok Chiudo La condivisione Vado a continuare Facciamo un piccolo Esempio Su una Edify Ok Vi faccio Magari L'esempio Direttamente Su Alessio Che faccio Un Edify Su Alessio Se io Avete visto Come era L'Edify Di poco fa Se io magari La faccio scarica E questo qui Alessio Un amico mio Ok Anche lì Il punto importante L'energia Ok Se io invece Vado a fare Un Edify Che inizia così Magari saluto a tutti Buonasera a tutti Ragazzi Spero che state Bene Sono veramente Grato che siete qui In questa Presentazione Che abbiamo Organizzato Nessuno di voi Sa veramente Di cosa si tratta O alcuni di voi Ho invitato tutti qui Però Non sono io La persona Che veramente Andrò a fare il tutto Ok Io ho veramente Vi ho invitato di cuore Ma sarò un'altra persona Per me Per me è una persona Una persona speciale Una persona che mi ha Veramente insegnato Tutto in questo campo Una persona che rispetto Tantissimo per la strada Che ha fatto solamente Ha solamente La sua giovane età Ok Stiamo parlando di 22 anni Ok Ha veramente raggiunto Quello che veramente Molte persone A livello anche di test Intelligenza Arrivano a 40 anni Ok Quindi ti posso Vi posso fare capire Ragazzi Che stiamo parlando Di una persona Che io sì Ho l'onore di chiamarlo Amico Perché siamo insieme Scherziamo Ridiamo e tutto Ma ho anche l'onore Veramente di chiamarlo Mentor E upline Ok Ho l'onore veramente Di insegnarmi giorno Dopo giorno Di stare accanto a lui Quello che fa Veramente fantastico Ok Io vi faccio adesso Un esempio Se io ti dovrei dire Ehi Prenditi la responsabilità Sulle spalle Magari Di un grande gruppo E prova a cambiare la vita Più di 50 persone Stare da oggi Ora in questo momento Come raggiressi tu Magari non sai dove mettere le mani Questo qui è Alessio Ok Stiamo parlando veramente Di una persona fantastica Mi lascia sempre A bocca aperta Giorno dopo giorno Vi posso dire che Se c'è una persona Che veramente Si prende del tempo Per tutti Aiuto a tutti È lui Io a questo punto Non voglio dire niente più E mi chiudo il mio microfono Ok Già è un'altra cosa Che penso che Avete visto un po' La differenza Ok Ladyfai non va preparato Ok quello che ho detto Non l'ho preparato Ok perché non mi esce mai uguale Che Ladyfai La devi fare Come conosci la persona Naturalmente non ci puoi dire Come magari ogni tanto Abbiamo scherzato tra di noi Non puoi dire Senti qua Al presente Berlusconi Naturalmente non lo puoi fare Perché Ladyfai Deve essere più realistica possibile Ok Abbiamo riso un po' di volte Con questo esempio di Berlusconi Però credetemi Naturalmente Non possiamo farlo Perché Ladyfai Deve restare più realistica possibile E credetemi Il compito Del Ladyfai Per il tuo upline Hai veramente alleggerito Il compito Dell'ottanta per cento Che quella persona Inizia con te Il percorso IEM Ok Questo Adesso io direi che La spiegazione Delle skills L'ho fatta Però magari manca qualche cosa Quella qualcosa Non lo aggiungo io Magari era brutto Che ho preso come esempio Alessio Per fare Ladyfai Perché adesso Toccherà veramente D'Alessio Quello che ho detto Non era Non era preparato Non era Una cosa che ho preparato prima Per questo Io non aggiungo niente a quello Però vi posso dire Che vi darà la parte mancante Perché l'esperienza che ha lui Non ce l'ho io Ok L'esperienza che ha lui Veramente Troppo troppo avanti Anche io Prenderò la penna Ok E inizierò a scrivere Mi farò appunti Tutto quello che dirà lui Perché se una persona È più brava di dire Di una cosa Io stesso A me dico Stai zitto e scrivi Ok Per questo video Questo Ale A te il microfono E vado a tradurre Yes Yes Perfetto 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 Ja Freue michi Auf jeden Fall Auch Heute hier Am start Sein zu dürfen Vi sind Aktuell Jetzt 8 Eben 9 Teilnehmer Ja Ich hoffe Dass es euch Soweit Ganz gut geht Dass eure Woche Start Auf jeden Fall Auch Extrem Gut War Und Genau Grazie Vi Vi do Un benvenuto Siamo Siamo 8 Persone In questa Chiamata Espero Danach Warum Funktioniert Das Vuoi raggiungere Quei risultati Poi ti chiedi Ok Ma come mai Non ce la faccio Quello è il motivo Magari Ok Per questo Diamo dei punti E se vuoi Un punto importante Mantieniti al sistema Non cambiare niente Das einzige Und tu Und tu Versuchst Versuchst Neu Neu Erfinden Das Heißt Du Versuchst Neue Dinge Erfinden Du Lädst Wahrscheinlich Nicht Die Person Ein Die Du Nicht Magst Aber Warum Warum Lädst Nicht Einfach Jeden Ein Weil Es geht Nicht Im Network geht Es Nicht Darum Leute Zu Starten Sondern Im Network Geht Darum So Vim Menschen Das Business Zu Zeigen Und Nicht Darauf Auszugehen Dass Du Start Ragazzi Dobbiamo Capire Che Quello Che Ho Provato A Far I Inizio Che Ho Iniziato Con Network Io Pensavo Di Costruire La Ruota Nuo Ok Di Inventare Un'altra Ruota Che Sia Diversa Ok Ma Se La Ruota Ja C'è Non Devo Non Ho Bisogno Questo Aiuto Ok E Lì Ti Posso Dire Che Veramente Devi Saper Se Pensi Di Sapere Tutto Questo Ti Dico Oggi Così Come Suona Non Sai Niente Di Questo Ok Quindi Se Se Pensi Che Magari Se È Niente Da Cambiare Solamente Ascoltare Ok Se Pensi Di Non Invitare Tutti Perché Magari Qualcuno Non Ti Sa Simpatico Penso Che Sbagli Perché Network Non Vuol Dire Invitare Per Farsi Soldi Ma Vuol Dire Nemmeno Li Devi Invitare Per Il Pensiero Ok Tanto Inizia Ok Questo È Sbagliato Non Invitare Per Iniziare Ma Solo Per Dire Ok Io Devo Far Vedere Tutti Il Mio Business E Quello Que Faccio Wenn Du Zu 100% In Deine Sache Stehst Ja Wenn Du Eine Sache Liebst Wenn Du Eine Sache Schätzt Wenn Du Eine Sache Zu 100% Machst Mit Begeisterung Und Leidenschaft Dann Gehst Du Automatisch Raus Und Erzählst Es Menschen By The way Du Musst Es Hier Nicht Machen Du Kannst Es Aber Machen Um Menschen Zu Helfen Um Diese Vision Von Italien Hoch zu Bringen Mit Dir Mit Eliseo Mit Mir Mit Andrea Mit Man Und Den Rest dieser Leute Du Kannst Du Hast Die Chance Hier Was Großes Aufzubauen Aber Um wirklich Was Großes Aufzubauen Musst Du Die Kleinen Dinge Machen Und In diesen kleinen Dingen Ja In diesen kleinen Dingen Kommt Auch Wirklich Darauf An Wie Gut Du Diese Skill Sets Beherrschst Das heißt Wenn Du Dir Jetzt Gerade Das Recording Anguckst Für Die Leute Die Jetzt Gerade Nicht Am Start Du Schaust Dieses Recording An Geh Diese Punkte Mit Deiner Upline Nochmal Durch Wie Man Nochmal Einlädt Wie Man Nochmal Edified Geh Diese Punkte Step By Step Durch Perfetto Se Adesso Alessio Se Du Veramente Sei Dietro Al Business Al 100% Che Sei Veramente Content Ami Quello Che Fai E Sei Veramente Pieno Di Grinta Per Quello Che Fai È Normale Automatico Che Vai Fuori A Raccontarlo A Tutti Ok Però Una Cosa Devi Capire Non Lo Devi Fare Ok Ma Lo Puoi Fare Che Puoi Far Parti Oppure Puoi Portare La Visione Che Abbiamo Con I La Grande Visione Di Portare Veramente In Italia Questa Visione In Alto Ok Puoi Farne Parti Ma Non Devi Ok Una Cosa Che Ti Posso Dire Per Per Raggiungere Queste cose Queste Grande Visioni Devi Fare Piccole Cose Sono Queste Le Piccole Cose Piccoli Punti E Se Tu Oggi Magari Parlo A Te Che Magari Guardi La Registrazione Stai Guardando Questi Punti Quanto Li Hai Studiato Ok Con Questa Registrazione Ti Aiuti Vai Dal Tu Upline E Provate Insieme Ok Fatti Aiutare Fatti Dare L'opinione Di Come Stai Andando In Questi Piccoli Punti Genau 100% Und Das Ding Ist Für Die Leute Die Denken Sie Haben Es Drauf Gehen Diese Punkte Step By Step Jeden Einzelen Tag Nochmal Durch Weil Es Skill Skillsets Die du brauchst Um Am Ende des Tages Dahin zu kommen Wo du hin willst Es sind diese Steps Du musst nicht Außergewöhnliche Dinge machen Du musst nicht Der Superheld sein Du musst auch nicht Krass sein Du musst diese Kleinen Dinge Nur gut machen Du musst nicht Außergewöhnliche Dinge tun Du musst nur die Kleinen Dinge Außergewöhnlich Gut machen Und das war's Und so gehst du In den P150 Vom P150 Auf P600 Vom P600 Auf P1K Weil wenn du dich Jetzt entscheidest Mal einmal All in zu gehen Wenn du dich Jetzt einmal Entscheidest Bis Ende des Jahres Alles zu machen Dann geh diese Punkte durch Ruf deine Upline an Mach dir eine Kontaktliste Und mach dein Launch Mach diese Sachen Und du wirst In diesen Step Kommen Wenn du Geld Struggles hast Wenn du In Not bist Dann bist du Verpflichtet Diese Dinge Zu machen Du bist Verpflichtet Diese Dinge Zu tun Für dich Und deine Family Ja Elis Sollen wir Noch ein Call Auf machen Yes Ok Perfetto Ok Traduzco Subito Questa frase Se veramente Sei la persona Che vuole provare A far tutto Fino a fine anno Veramente Fai tutti questi Punti che abbiamo Detto E allora Veramente Arriverà Il tuo obiettivo Fai piccoli punti Veramente Fantastici E non cercare Di essere un supereroe Ma fai questi piccoli punti Tuckrani Tuckrani Exaggeration D